Gentili amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Telegi al mercato. Oggi in questa bella giornata abbiamo deciso di fare due passi al mercatino di Piazza Lessegni qua a Sassari. Rimanete con noi. Buongiorno Telegi, posso rubarle due secondi? Sta facendo dei buoni acquisti oggi qua al mercatino di Piazza Lessegni? Non lo so perché a me sto appena prezziato a comprare qualcosa, ma penso di sì. Cosa comprerà? Arancia e mandarine. Quanto le sta pagando più o meno? Non lo so, mi deve dire il prezzo. Ho capito, comunque i prezzi come li trova qua al mercatino? Abbastanza buoni. Viene spesso lì? Beh, ogni tanto. Però si trova bene? Sì, sì. La ringraziamo, arrivederci ora. Ha fatto dei buoni acquisti oggi al mercatino? Abbastanza. Cosa ha comprato? Allora, mandarine, clementine, fragole, insalata, un po' di tutto. Quanto ha speso più o meno? Sulle 20 euro. Quindi insomma, prezzo buono, con un bel po' di roba a casa si porterà oggi? Essendo una figlia di commercianti so anche comprare. Lei quando viene a comprare chiede anche la provenienza del prodotto oppure guarda solo il prezzo? Soprattutto la provenienza, bisogna sapere cosa si mangia, perché oltretutto sono tutte made in Cina e non è che mi fida molto. Prodotti italiani bisogna portarli sempre avanti. Buongiorno signora, cosa hai comprato oggi di buono? Eh, le lattughe, i cavolfiori ho preso poco fa. Quanto le ha pagate? La lattuga è 80 centesimi l'una. Quindi i prezzi sono buoni? Ah, sembra buoni fino adesso. Hai comprato qualcosa per cucinare? Sì, un cavolo. Come lo cucina? Eh, a minestra. Ciao, buongiorno. Cosa stiamo proponendo oggi di buono ai clienti del mercatino? Abbiamo un po' di tutto, formaggi, salumi, perette, baccalà. Puoi alencarci anche qualche prezzo? Sì, guarda, sono anche esposti. Aspetta, ci avviciniamo con te così ce li spieghi un attimino? Sì, qua abbiamo il formaggio poda per esempio, viene prodotto nella zona di Cagliari e costa 13,50 al chilo. E uno tra i più cari, è un formaggio misto, vaccino e pecorino, fatto da due tipi di latte, sia vaccino che pecorino. Quindi sono, vabbè, tutti i prodotti sardi e di ottima qualità? Tutti i prodotti sardi, eh sì, soprattutto di ottima qualità. Poi, vabbè, abbiamo anche prodotti della penisola, come il grana padano, il parmigiano, che hanno prezzi, vedi, il parmigiano inizia ad essere un po' più caro. Questo costa 16,80 al chilo, mentre il grana ce l'abbiamo a 11,80. Qual è il prodotto che consiglieresti oggi ai clienti? Il prodotto attualmente, che ha il migliore rapporto qualità-prezzo, secondo me, è il pecorino di Sarule. Che costa, mi hai detto, 9,80. 9,80 al chilo ed è saporito, è veramente buono. Ma capita molto spesso che la gente si lamenti dei prezzi? Sì, soprattutto in questo periodo per via della crisi, sicuramente. Poi, possiamo dire che questo è un settore che risente molto della crisi, perché il formaggio si può considerare quasi, non dico come un bene di lusso, però sta diventando sempre di più un prodotto che per averlo occorre spendere tanto. Però purtroppo noi non è che possiamo fare tanto, perché già i prezzi sono alti alla fonte, diciamo, dove viene prodotto il formaggio. Ho capito. Va bene, da dove arrivate comunque? Noi arriviamo da Ossi, però importiamo da tutta la Sardegna. Buongiorno, cosa stiamo proponendo oggi, buono oltre i carciofi di Uri a 2,50? 10 carciofi di Uri a 2,50, altro buco. Mangia, prana, cena, colazione, cosa voglio di più questa gente? Ma vedo anche delle lumache. Quelle sono lumache di Ossi. Raccolte da lei? No, ci sono anziani che le raccolgo e noi le facciamo il giro e le prendiamo. Quanto sono? A 8 euro al chilo. Come sta andando la giornata? Oh, sta iniziando male, poca gente. Vabbè, ancora è presto. È presto, ma questo è il secondo centro, come si chiama? Vabbè, i carciofi vedo che comunque stanno andando bene. Ma sì, per adesso sì. Ancora è il periodo, sta finendo però. La settimana dopo non ci sono più i carciofi. Insomma, vedo che abbiamo rifornito un po' di capi estivi adesso. Eh, primaverile più che estivo. Insomma, siamo passati praticamente dal freddo al caldo, adesso la gente acquisterà sicuramente molti capi più leggeri. Ci dovrebbe svegliare anche il lavoro, sicuramente. Come sono i prezzi nella sua bancarella? Ottimi. La qualità è ottima e il prezzo ugualmente. Come stanno andando gli affari? Discretamente, non mi posso lamentare. Il capo che sta andando per la mangiare in questi giorni, che è arrivato il caldo così d'improvviso? Le camicie, le tute da ginnastica, le magliettine a manica corta. Va bene, per il mare non abbiamo nulla? No, ancora è presto. Ok, però qualcuno già inizia ad andare, eh? Sì, sì, sta già iniziando. Eh, noi ci regoleremo di conseguenza. La ringraziamo, buon lavoro, arrivederci. Ciao, buongiorno Tele G. Cosa state proponendo oggi di buono ai clienti? Abbiamo tutta in offerta. Tipo i funghi, quanto sono e da dove arrivano? Sono sardi, ecco, sono 1,50 la confezione, neanche 2 euro al chilo. Come sta andando la giornata? Bene, vedo che stiamo vendendo, quindi bene. Si lavora, vedo anche le fragole, ovviamente è bella stagione, fragole in arrivo, a quanto sono? Sì, 50 la cassa, fragole sarde. Stanno andando? Un po' o meno, perché sono quelle spagnole che costano poco, però già vanno. Vabbè, però ovviamente bisogna guardare anche la qualità del prodotto. Il prodotto sardo, quindi la gente l'apprezza di più. Ci sono delle persone che oltre al prezzo vengono a chiedervi anche la qualità e la provenienza del prodotto? Sì, sì, guardano tutti, guardano la freschezza, guardano un po' tutte, i prezzi, guardano tutto a quanto. Voi da dove arrivate? Noi siamo di Sassari. Ti ringraziamo, ti auguriamo un buon lavoro. Ciao, arrivederci. Anche oggi siamo arrivati al termine di questo appuntamento con TeleG al Mercato, da Piazzale Segni a Sassari e tutto. Appuntamento ovviamente alla prossima, arrivederci.